Grazie a tutti. Ma non solo un'attrice, possiamo dirlo, anche una gavetta, così come dal punto di vista della produzione. Sicuramente, anche perché è un aspetto della mia vita professionale che sicuramente conoscono in pochi, perché giustamente conoscono di più quella più pubblica, quella televisiva, cinematografica. Sì, amando moltissimo questo lavoro e sognando di farlo quando ero piccola, ho sempre pensato che comunque dovevo impararlo, principalmente sul campo, perché poi è un lavoro che in qualche modo devi studiare, ma che devi anche imparare facendolo. E quindi mi sono affiancata a registi bravi, Salvatore Piscicelli, Ferrara, altri, e con loro ho mosso i miei primi passi in questo mondo, ho imparato a stare sul set, ho imparato a vedere come si costruisce una scena, come si fa un piano di lavorazione, quante inquadrature si riescono a fare in un giorno, quante soldi ci vogliono più girare i film, insomma tante cose, perché poi insomma quando arrivi su un set ci deve arrivare abbastanza pronto, perché insomma non è facile. D'altronde il cinema è un lavoro collettivo di cui bisogna avere appunto un'ottica di insieme. L'amore fa male, film corale, un ottimo cast, come hai abbracciato questo progetto? Perché il film è stato scritto nel 2007, però fortunatamente è uscito anche in sala. Come hai abbracciato questo progetto e come hai scelto di conseguenza il cast in un film che parla sull'amore, appunto dell'amore? Guarda, appunto come dicevi tu, il film è stato scritto nel 2007, credo che l'idea di un film nasca in un momento della vita di ognuno di noi, forse in quel momento avevo proprio necessità di parlare di amore, che poi in questo film si parla di amore difficile, l'amore quello che ti fa soffrire, il tradimento, l'amore che in qualche modo ti abbandona e che molte volte non sai che ti abbandona, perché nel film appunto molte coppie di questo film subiscono dei tradimenti e non sanno di essere tradite, quindi insomma ci sono tante sfaccettature che riguardano l'amore. A me piaceva raccontare quella parte lì, quella parte lì più complessa, più nascosta, che in qualche modo ci fa sognare di cambiare la vita, ma che spesso non ce la cambia. E quindi in quel momento della mia vita mi andava di raccontare questo, e penso che poi nella vita di un regista, insomma, in ogni momento c'è un momento diverso per scrivere ogni tipo di storia. Fiorugio di questa edizione del Festival di Foggia è lo sguardo femminile, lo sguardo di donna, qual è il tuo punto di vista di autrice femminile nel tuo film? Ma sicuramente diciamo che il film guarda il mondo più dalla parte delle donne, in questo caso sono le donne che subiscono di più i tradimenti o gli inganni. C'è anche la precarietà della figura femminile, perché Stefania Rocca appunto interpreta il ruolo di una donna che fa l'attrice, è una donna che ha cresciuto una figlia da sola, quindi è una mamma sola, è una donna che vive mantenuta dalla sua amante, che non cambia, che non fa delle scelte, che ha una famiglia, quindi non fa delle scelte per stare con lei, quindi fa fatica a lavorare, fa fatica a mantenersi, quindi ci sono tanti fattori difficili, diciamo, nella storia. Quindi insomma guardo a loro, perché in fondo alla fine dimostrano comunque carattere, dimostrano di avere forza e decidono di cambiare in qualche modo, perché molte volte nella vita sei costretto a cambiare e avere la forza di cambiare secondo me è un gran dato di coraggio. Un'ultima nota, noi siamo a un festival del cinema indipendente, il tuo film ha avuto, nonostante opera prima, ha avuto una fortunata storia produttiva e distributiva, perché poi a volte il nostro sistema, diciamo, si producono anche film indipendenti, ma poi non arrivano in sala. Sì, sicuramente è l'aspetto più difficile del cinema italiano oggi, perché purtroppo, non so, anche se purtroppo l'importante è che ci sia pubblico che vada al cinema, diciamo così, perché finché c'è pubblico che va al cinema, il cinema, diciamo, ha la forza di continuare. Il pubblico, diciamo, privilegia un certo tipo di cinema, però vorrei fare una critica anche alle distribuzioni, che spesso sostengono solo questo genere di film e credo che molte volte anche dei film un po' più piccoli, che possono apparentemente sembrare difficili, se fossero sostenuti con un po' più di mezzi economici, quindi un po' più pubblicizzati e avessero la fortuna di avere più sale, potrebbero avere più riscontro di pubblico. Ecco, molte volte manca proprio questo, anche un po' di coraggio da parte delle distribuzioni. Mi ritengo fortunata, come dicevi tu, fortunata nel senso che ci ho messo comunque quattro anni, ho dovuto comunque lottare, parecchie volte ho trovato le porte chiuse, non ho mollato. Ecco, forse questa è la cosa che consiglia a tutti in generale, di lottare fino a quando, insomma, è possibile lottare, fin quando c'è un margine per crederci, perché alla fine ce l'abbiamo fatta. Dico ce l'abbiamo fatta perché, insomma, è un lavoro di tutti, non è soltanto il mio film, ma è il film di tutte le persone che hanno lavorato con me. E quindi, ecco, oggi, quest'anno è arrivato il momento in cui una produzione ha avuto il coraggio di produrre con i propri mezzi e questo è un atto coraggioso, specialmente in questo periodo in Italia dove è difficile fare tutto. E anche una distribuzione che, appunto, ha distribuito il film, un momento importante della stagione e quindi, insomma, siamo stati molto contenti. Grazie Mirka e continuate a seguirci sul canale dedicato al Festival del Cinema Indipendente di Foggia. Grazie a tutti.